Ciao, sono Esther Morriale, ho 25 anni e vengo da Versa. Ho scelto di partecipare a J-Factor come una sfida con me stessa, perché in quel periodo pensavo che non fosse cantare la mia strada e quindi dissi a me stessa se va bene proseguo, altrimenti mollo. E posso dire che J-Factor mi ha praticamente stravolto la vita e io cercavo appunto una nuova me, una Esther più coraggiosa, più sicura di sé e che imparasse ad apprezzarsi di più. Il percorso di J-Factor è stato quello che mi ha segnato tantissimo, perché nonostante il mio secondo posto, ho avuto l'opportunità e l'onore di poter entrare a far parte di un'etichetta discografica fantastica, Hopeful Music, che ha dato vita al mio primo album, intitolato per l'appunto La mia rinascita, perché è stato proprio quello che è successo nella mia vita grazie a J-Factor. L'esperienza in studio è stato praticamente vivere un sogno, tutto pazzesco, tutto che ha superato le mie aspettative, molto più bello, molto più emozionante di quanto lo immaginassi. Vi aspetto quindi in tanti per l'uscita del mio album e a breve il mio videoclip ufficiale. Restate connessi, Dio vi benedica!